Ci saremmo aspettati soprattutto che venisse in audizione il direttore generale Schell, ma come sempre non è la prima volta, si limita a delegare. Probabilmente l'imbarazzo di venire a dare delle risposte a una continua serie di dichiarazioni che lui fa a mezzo stampa, quel coraggio gli manca. Continua a scappare da questa commissione, manda avanti l'assessore e i responsabili amministrativi. Ricostruiamo la vicenda, parliamo di una cucina che ha visto finire sulla stampa nazionale immagini con i topi e con le blatte all'interno dei locali dove si somministrava cibo per i pazienti. Ovviamente a seguito della visita a Denas questa cucina è stata chiusa. Abbiamo assistito a un continuo rinviare dichiarazioni da parte del direttore generale. La cucina aprirà, stiamo consegnando i lavori, i lavori sono stati consegnati all'impresa, investiremo 550 mila euro su quella cucina. In realtà ancora una volta oggi la parte amministrativa ci annuncia che gli unici lavori che sono stati fatti o che stanno per essere appaltati sono lavori di piccola entità, circa 30 mila euro. Di quattro ambienti destinati alla cucina solo uno verrà ristrutturato, gli altri li andremo a perdere. Si passerà da una cucina a gas a una cucina a induzione, stiamo ancora aspettando il nulla ossa da parte dei vigili del fuoco, ma la cosa ben più grave qual è? Si continuerà a utilizzare la cucina di Lanciano, a vasto si farà soltanto ciò che deve essere fornito caldo e immediato, tutto il resto verrà cucinato a Lanciano. Ci chiediamo qual è il senso di investire 550 mila euro per una cucina se tutto verrà cucinato e somministrato da Lanciano. Il cibo, pur essendo di buona qualità, perché la materia prima è di buona qualità, l'abbiamo verificato, arriverà all'ospedale di Vasto dopo circa un'ora in condizioni pessime. Questa è la lamenteria dei cittadini, questa è la follia di chi ci amministra in questo momento, questa è una direzione generale che si limita ad andare avanti ad annunci. Sulla stampa un annuncio contraddice l'altro, annunci sui social, sui Twitter, dove il direttore generale è l'unico mezzo che utilizza per attaccare consiglieri regionali, Presidente della Commissione Vigilanza e mettere più volte in imbarazzo lo stesso assessore, come è capitato ieri pomeriggio. Questo è il quadro della situazione nell'Asle 02. L'unica nota dolente, quella che dà più fastidio, è che ancora una volta la documentazione ci è stata fornita solo questa mattina. Guarda caso, solo con l'Asle 02 continuiamo a avere difficoltà nel reperire materiali e informazioni che non ci vengono fornite a richiesta di accesso agli atti. Questa cosa è inaccettabile, l'abbiamo segnalato all'amministratore, all'assessore, faremo di tutto per segnalarlo anche al Presidente del Consiglio e a tutti gli altri organi competenti.